Ciao sono Leda e oggi vi propongo un modo semplice e divertente per preparare la merenda o la colazione, la torta a scacchi. Gli ingredienti che ci servono sono una confezione di lassoffice al cioccolato, una confezione di lassoffice margherita, una confezione di zucchero al velo, due confezioni di glassa al cacao e due cucchiai di marmellata di albicocche. Versiamo l'impasto chiaro in una tortiera del diametro di 18 cm precedentemente imburrata e infarinata. Ripetiamo l'operazione con l'impasto scuro in un'altra tortiera e inforniamo a 165 gradi per 50 minuti. Facciamo raffreddare bene, tagliamo la cupola e ricaviamo due strati di uguale spessore da entrambe le torte. Aiutandosi con i due dischi di carta ricaviamo tre anelli da ogni strato. Con cautela componiamo la torta alternando anelli scuri e anelli chiari e sovrapponiamo gli strati farcendo la torta con un velo di marmellata. Sciogliamo la glassa al cacao come indicato sulla confezione e versiamola in una ciotola. Grassiamo la torta con l'aiuto di una spatola o di un coltello e spolveriamo con lo zucchero al velo. Il dolce è pronto, non ci resta che gustarlo. Ciao a tutti!